Quali sono le problematiche che al di là del fermo siete costretti ad affrontare giorno dopo giorno? Punto molto ma molto delicato e a riguardo ai lavoratori dipendenti e anche a riguardo alle imprese perché dobbiamo prendere ancora il fermo biologico 2015-2016. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, ecco il mese di agosto è stato un mese molto ma molto povero pieno di una crisi che noi già sapevamo e quindi ora per riavere uno stipendio accettabile dovremo aspettare la fine di novembre perché tornando in mare l'8 ottobre, anche la prima settimana di ottobre non possiamo lavorare. Poi ulteriore situazione molto gravosa è data dal fatto che noi fermiamo insieme al Tirreno cosa che non è mai accaduta. Gli altri anni noi fermavamo ad agosto e il Tirreno fermava a settembre ora invece fermiamo tutti e due a settembre e torniamo tutte e due le marinerie adriatiche e tirrene nello stesso periodo torneremo in mare. Quindi non sarà un esplaco come gli anni scorsi. Questo è un altro indice di chi poi non è competente a riguardo della problematica del mare perché non è che si risolve il problema dei pescatori o del mare con dei fermi che non stanno in energia l'annenda era come quello di quest'anno.